E parte, parte Futsal Barano FC Atletico che prova a dare uno sguardo in avanti, premia il movimento di testa attenzione a testa contro Iannone che gli sbarra la strada Iannone lungo, scavalcato Iacono e il gol di Romano Cini Enrico Di Meglio Enrico Di Meglio la conclusione, la parata di Iannone dopo che il pallone ha colpito il palo gestisce il pallone con la suola, poi Barbie Manieri il mancino di Alessio Manieri per il gol del Pari allora ancora Iacono, buona la progressione di Iacono con il destro Andrea Iacono per il 2 a 1 del Barano sta a servire Enrico Di Meglio, occhio a Enrico Di Meglio benissimo, ancora Vierà, conclusione di Vierà, la paratissima di Iannone poi Manieri per il 3 a 1 Di Meglio, prova la transizione offensiva Enrico Di Meglio, il tunnel Iannone con i piedi ad evitare il peggio poi il suggerimento per Mancini lo scambio con Mariano direttore di gara che in questo momento fa partire il secondo tempo di Meglio, pallone sul destro Guido Testa, un po' di spazio Guido Testa Guido Testa per il 4 a 2 Vierà, la conclusione, la respinta e poi Lubrano da sottomisura Gigi Lubrano ad esultare ad esultare e c'è la rete la rete di Mancini le finisce arriva il fischio finale il fischio finale con il punteggio di 5 a 3 che premia la Fuzz al Barano e la porta in testa alla classifica